Modello neck knife del Boker, fodero in pelle con clip posteriore della cintura, questo è un boot knife più che un neck knife, il coltello è un full tang in acero 440C con manicatura in paracord, c'è una piccola delinatura posteriore per l'impugnatura, il coltello è tutto nero, molto carino e pratico. Da questa parte c'è la marca con il tipo d'acciaio e il marchio, la manicatura si potrebbe anche sciogliere e fargli delle guancettine in mia carta.